Giro d'Italia Amatori 2016 Vieni con noi dal 3 al 5 giugno sulle strade della Campania per conquistare la maglia rosa e le altre maglie in palio Tre giornate di grande sport, di grande spettacolo che sosterranno l'attività giovanile che rappresenta il futuro del ciclismo Giro d'Italia Amatori 2016, ti aspettiamo!